Noi adesso non siamo qui. Nulla di mistico, voglio solo portarvi da un'altra parte. Siamo di fronte all'ingresso di un grande centro commerciale e notiamo come la gente entra ed esce tranquilla e indisturbata dalle porte principali. Probabilmente saprete che in caso di emergenza, come durante un'evapiazione, non usciamo dalla stessa porta da cui siamo entrati, perché per un afflusso incontrollato di tante persone abbiamo bisogno di una porta più ampia e più rapida. Ecco, per intenderci, usiamo le solite porte giganti con il maniglione colorosso antipanico. Ho una notizia per voi. Il nostro corpo è come un grande centro commerciale, è un grande centro commerciale cui cliente più abituale è l'acqua. L'acqua, in condizioni di calma, come un tranquillo pomeriggio di shopping, fluisce indisturbata attraverso le membrane cellulari. Ma quando c'è un'emergenza, quando c'è bisogno che l'acqua fluisca rapidamente e allora lì entrano in gioco le grandi porte con il maniglione rosso antipanico del nostro corpo, le acquaporine. Ora, di acquaporine nel nostro corpo ce ne sono davvero tante, però una è particolarmente interessante. Per esempio, può capitare che nel nostro sangue insorgano delle condizioni un po' pericolose, per cui per risolverle c'è bisogno che l'acqua fuoriesca rapidamente dai vasi sanguigni e quindi si accumula nel nostro corpo, nei nostri tessuti e ne provoca rigonfiamento. Ma il cervello? Il cervello, a differenza di tutti i nostri altri tessuti, ha una particolarità perché è rinchiuso all'interno di una gabbia, una gabbia rigida, il cranio. E quindi, se da una parte l'acqua esce perché deve ristabilire l'equilibrio del sangue, dall'altra parte si accumula nel cervello, portando ad un aumento del volume cellulare e quindi, dato che siamo in uno spazio troppo ristretto, la pressione intracranica aumenta, sorge un altro problema, sorge l'edema cerebrale. Ora, l'acquaporina 4 nel cervello ha come un'arma a doppio taglio perché permette sia l'accumulo di acqua, sia d'altra parte l'eliminazione di acqua. Quindi questo la rende un possibile ed interessante target terapeutico. Riuscire a capire qual è il reale ed effettivo ruolo dell'acquaporina nel cervello, nell'edema cerebrale, ci permetterebbe non solo di, per esempio, modularle, ma ci permetterebbe anche di decidere, a nostro piacimento, il numero di porte con il maniglione antipanico presenti nel nostro corpo. E questo non solo porta a una limitazione del danno, ma ci permette anche di risolvere le cause primarie di una patologia come l'edema cerebrale.